Il cammino dell'unità è possibile a partire da una teologia fatta in ginocchio, segnata cioè dalla volontà di una comprensione profonda. Lo ha ribadito Papa Francesco incontrando la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, presente in Vaticano in occasione della festa dei Santi Pietrepaolo. Papa Francesco ha ricordato l'incontro col Patriarca Bartolomeo I nel suo recente viaggio in Terra Santa e a Roma a inizio giugno per la preghiera di pace per il Medio Oriente. Quanto al cammino ecumenico, Papa Francesco ha ribadito che se siamo animati da spirito di comprensione profonda, allora la riflessione sui concetti di primato e sinodalità sulla comunione nella Chiesa Universale, sul Ministero del Vescovo di Roma, non sarà un esercizio accademico né una semplice disputa tra posizioni inconciliabili. Abbiamo tutti bisogno, ha detto il Papa, di aprirci con coraggio e fiducia all'azione dello Spirito Santo e di lasciarci coinvolgere nello sguardo di Cristo sulla Chiesa, sua sposa, nel cammino di questo ecumenismo spirituale che è rafforzato dal martirio di tanti nostri fratelli che confessando Gesù Cristo il Signore hanno realizzato l'ecumenismo del sangue.